Garmischi stava finito qua, dove incomincia la discesa di più, qua là sotto, davanti al Carpendier, lì stava la Garmischi. Cara Tatiana, ti racconterò tutta la storia che dal punto di vista del carcerato è un piccolo romanzo. Siamo ad Ustica in 30 confinati politici. Abbiamo già iniziato tutta una serie di corsi, elementari e di cultura generale, per i diversi gruppi di confinati. Ma com'è che una di quella che so io, di quella che ho visto io nella mia vita, ancora sognò qua. Che vita brutta, che vita di cane, che vita l'aria, che freddo, che fame, che miseria, tutto, 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 tutto. Grazie a tutti. Questo siamo per loro, sassi in un secchio. Loro chi? Gli amici o i nemici? per afferrare un sasso, non basta un dito solo. Ne servono almeno due.